Musica Buongiorno e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca tragedia della strada ieri sera a Rauscedo di San Giorgio della Rikinvelda un 28enne di Spilimbergo ha perso la vita mentre era in sella alla propria moto per lui inutili i tentativi di soccorso è morto a causa dei numerosi traumi riportati vediamo il servizio Incidente mortale quello avvenuto ieri sera poco dopo le 21 a Rauscedo nel comune di San Giorgio della Rikinvelda per causa al vaglio dei carabinieri di Spilimbergo intervenuti sul posto per i levi di legge a perderla vita è stato un 28enne Zacari Iota che dopo aver perso il controllo della propria moto è finito fuoristrada lungo via Ruggero Forti all'incidente ha assistito un amico che era su un'altra moto e che ha allertato i soccorsi nel violento impatto il giovane originario del Burkina Faso e residente a Barbeano di Spilimbergo ha riportato diversi traumi e per lui non c'è stato nulla da fare inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sul posto con ambulanza e dell'insoccorso oltre ai vigili del fuoco il sindaco Michele Leon ha avvisato dell'accaduto ma impossibilità di raggiungere il luogo dove si era verificata la tragedia ha chiesto di essere rappresentato nella circostanza dall'assessore D'Andrea e ci occupiamo ora degli incendi nella nostra regione perché nonostante il maltempo che si è battuto sul Friuli Venezia Giulia ci sono ancora focolai attivi tuttavia i roghi sono sotto controllo da parte dei vigili del fuoco e degli altri corpi impegnati in Friuli, in Valresia e a Taipana sono operativi due elicotteri per spegnere le fiamme invece a Medeazia e a Iamiano i principali e i primi roghi divampati in regione i vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di bonifica questa mattina il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha effettuato un sorvolo con l'elicottero della protezione civile su tutto il territorio lo abbiamo sentito quando ha fatto tappa a Iamiano L'area colpita è molto vasta, vederla da sopra fa impressione fa impressione per la vastità e fa impressione per vedere con precisione fino a dove era arrivata cioè l'ambito delle case quindi anche il lavoro di evacuazione che è stato fatto è stato un lavoro straordinario io stamattina sono venuto anche a ringraziare tutti i volontari del sistema di protezione civile il vigile del fuoco, la forestale, la polizia di stato, i carabinieri qui c'erano anche i sindaci che sono stati nella catena ovviamente determinanti adesso c'è la conta dei danni e capire soprattutto quali sono le misure in futuro da poter applicare per cercare di contenere fenomeni che purtroppo fanno parte della natura certo di queste dimensioni tutti anche i più esperti dicono e nessuno ha mai visto una cosa del genere lo Stato è stato presente con grande intensità nell'invio dei mezzi canadene abbiamo visto mai che tanti canaderi insieme ad affrontare questa cosa quindi io non posso non riconoscere a Liger Cursus al capo dipartimento nazionale della protezione civile di aver affrontato i due punti più critici che si sono presentati che riguardavano noi e riguardavano la Toscana poi si sono estesi ad altre regioni ma abbiamo avuto una reazione pronta io di questo voglio anche ringraziare Liger Cursus il governo rispetto a quello che è stato fatto in termini di disponibilità e di necessità che noi avevamo i roghi sulla montagna pordenonese sono sotto controllo l'attività dei mezzi aerei e la pioggia hanno fatto sì che le fiamme siano state arginate roghi sotto controllo nel pordenonese l'incendio sul monte Rauta Frisanco è praticamente spento anche grazie alle piogge della serata di martedì che hanno dato manforte ai carichi d'acqua riversati dal cielo, dagli elicotteri della protezione civile e dai canaderi impegnati sul posto la situazione al momento non desta più preoccupazioni ad ardere era una zona boschiva sulla vetta del monte ben lontana dalla popolazione il pericolo era quello che l'incendio scavallasse sull'altro versante ma l'attività dei soccorritori vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale regionale ha evitato il peggio a seguire le operazioni anche il sindaco Sandro Rovedo che dopo due giorni di ansia può tirare un sospiro di sollievo restano comunque pesanti i danni ambientali con ettari di bosco andati in fumo la tensione resta comunque alta perché il rischio che i focolai riprendano vigore c'è ancora in miglioramento anche la situazione a Clauti in Val Settimana anche qui elicotteri e canadera hanno fatto la loro parte e dalla serata di ieri le fiamme non ardono più il monitoraggio su tutta la zona resta attivo questa sera alle 19 nella chiesa della sua prepotto si terrà il santo rosario in ricordo di Elena Loduca la 56enne deceduta giovedì scorso dopo essere stata travolta da una caccia nel rogo di vampato a Ciala le esecue solenni all'assistente capo della Polizia di Stato e coordinatrice della protezione civile di prepotto saranno celebrate domani alle 11 nel Duomo di Cividale del Friuli ufficierà la cerimonia a padre Andrea parroco di prepotto e frate del suo antuario di Castelmonte sempre giovedì a prepotto per ordine del sindaco Maria Clara Forti è stato proclamato il luto cittadino in segno di ricordo e rispetto verso la concittadina che tanto ha dato alla comunità proprio nella sede della protezione civile regionale di Palmanova dal giorno della sua morte le bandiere della struttura sono posizionate a lutto il nullausta della procura di Udine alla sepoltura è arrivato ieri dopo l'autopsia effettuata sul corpo della donna che ha evidenziato la presenza di traumi da schiacciamento sul caso il PM Claudia Finocchiaro aprirà un fascicolo giudiziario a carico di gnoti incaricando un anatomo patologo di chiarire le cause del decesso intervento della polizia locale di Pordenone in un edificio pubblico del quartiere di Villanova ieri utilizzato da Balordi per vivaccare e fare uso di sostanze stupefacenti il vice sindaco di Pordenone Loperpido dice andremo a fondo della questione un'area pubblica finita nel degrado completo utilizzata da Balordi che hanno devastato l'interno dell'edificio nei pressi della chiesa del campo sportivo un tempo destinato ad attività ricreative per questo la polizia municipale di Pordenone è intervenuta in via Carducci nel quartiere di Villanova riscontrando una situazione indecorosa Siamo intervenuti in dato di erna su segnalazione in quanto c'era stata segnalata un'effrazione con apertura di una porta in quanto il locale comunale era stato chiuso qualche giorno fa ma l'abbiamo trovata aperta e in quello abbiamo deciso di intervenire per verificare la presenza di bivacchi all'interno o comunque sia la presenza di persone non abbiamo rivenuto persone abbiamo rivenuto però luoghi di bivacco e attività di dubbia natura tra cui appunto alcune tracce di consumo di sostanze da parte di persone L'area è stata ripulita anche grazie al personale di GEA l'intervento sottolinea il vice sindaco di Pordenone Emanuele Loperfido dimostra la tempestività della nostra polizia locale dopo le segnalazioni in particolare in questo caso dove c'è un'area frequentata anche da giovani ora ci saranno le indagini per risalire i responsabili e da settembre conclude Loperfido con l'arrivo di nuovi agenti potenzieremo il controllo del territorio Stiamo nel Pordenonese vigili del fuoco e protezione civile al lavoro tutta la notte per i danni causati dal maltempo che si è abbattuto nella destra tagliamento ci sono ancora 20 interventi in coda per i quali è stato richiesto il supporto dei pompieri di Vicenza Padova e Codroipo al momento è difficile fare una stima dei danni prosegue senza sosta il lavoro di vigili del fuoco e volontari della protezione civile nei comuni del friulio occidentale colpiti dal maltempo i pompieri hanno lavorato tutta la notte raddoppiando i turni tra Sanquirino Fontanafredde e Roveredo in piano in supporto alle squadre del comando provinciale di Pordenone sono arrivati con mezzi autoscale i colleghi da Vicenza e Padova oltre ai volontari del distaccamento di Codroipo una ventina di interventi ancora in coda che presumibilmente se pretendo conto della loro complessità dovrebbero esaurirsi tra oggi e domani l'operatività dei vigili del fuoco si è concentrata soprattutto tra Sanquirino Fontanafredde e Roveredo in piano dove a causa di una tromba d'aria si registrano i danni maggiori tra alberi abbattuti sradicati tetti scoperchiati e abitazioni danneggiate per occupare la situazione delle aziende agricole le coltivazioni di pregio come i vigneti e i seminativi sono stati distrutti dal maltempo interessati al fortunale anche se in maniera minore Cordenone Vivaro Frisanco e Sesto Reghina è ancora prematuro fare una stima dei danni che saranno comunque ingenti ma da parte dei cittadini c'è voglia di rialzare quanto prima la testa e ripartire lasciandosi alle spalle minuti di terrore che sarà difficile dimenticare è di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Pedrina a Pasiano di Pordenone per cause al vaglio dei carabinieri di Fontanafredda a scontrarsi attorno alle 10.30 sono state due auto una persona a causa del violento impatto è rimasta incastrata all'interno del veicolo era cosciente ma è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla prima di essere affidata per le cure del caso al personale del 118 i feriti sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone nessuno è in pericolo di vita la rotatoria del TAI all'uscita di Palmanova è stata completata a tempo di record dell'inaugurazione oggi a Bagnari Arsa l'opera era particolarmente attesa da tutta l'area palmarina ed è strategica per collegare il flusso del traffico lungo il collegamento Palmanova Cervignano Aquileia Grado è una grande soddisfazione inaugurare quest'opera perché era iniziata con la mia posa della prima pietra e oggi siamo a inaugurarla in tempi brevissimi presso un'opera pubblica con un costo di un milione e duecentomila euro ma soprattutto un'opera importante fondamentale nell'asta Palmanova Cervignano per dare fluidità e sicurezza al traffico è un mini hub in cui si possono formare fermare ben quattro mezzi pubblici quindi quattro corriere richiesta dalla TPL SCAR poi c'è la possibilità dell'attraversamento per gli ipovedenti quindi ci sono tanti accorgimenti che vanno anche in questa direzione per cui anche queste sono le situazioni che portiamo a casa cerimonia ricca di emozione al parco dinese McBride per il taglio del nastro del totem restaurato e donato 41 anni fa per i mille anni dalla nascita della città di Udine un simbolo dell'operosità dei friulani all'estero 8 metri e mezzo di altezza un'opera realizzata 41 anni fa in cedro secolare è il totem che troneggia nel parco McBride il cognome dell'elicotterista precipitato nel 76 mentre con il suo mezzo aereo soccorreva le popolazioni terremotate a Trasanghis oggi la presenza di una folta rappresentanza di canadesi appartenenti a 16 fogolars attivi in Canada a due passi dal palamostre di Udine c'è stata la cerimonia inaugurale del restauro dell'opera da parte della tarvisiana Francesca Comello con il supporto del comune di Udine confartigianato della stessa federazione canadese un simbolo dell'operosità dei friulani come ribadito dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin dal sindaco di Udine e dal presidente dell'ente friuli nel mondo ha sottolineato due cose sull'operosità dei friulani la citazione di Michelangelo sì è importante recuperare anche attraverso questi simboli la capacità del fare del fare con le mani ed è una bella citazione quella nel film Good Born in Babilonia quando alcuni artigiani italiani lavoravano alle scenografie del film di Griffith e venivano derisi perché diciamo gli italiani mani sulla pancia sguardo verso il sole lo rispondono sì noi siamo i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo noi abbiamo restaurato le chiese di Ferenze e di Pise voi di chi siete figli cioè per dire che attraverso questa tradizione del saper fare facciamo grande il nostro friuli la giornata è poi proseguita con il congresso di Fogolars Furlans della federazione serie di incontri che andranno avanti sino a venerdì quando il gruppo si ritroverà a Spilimbergo il Teatro Verdi di Pordenone ha ospitato il concerto per la pace organizzato dalla Croce Rossa italiana per raccogliere fondi per i giovani esuli ucraini ospitati nella nostra regione è arrivata la serata del concerto che fa parte del progetto che abbiamo insieme al Teatro Verdi il comitato della Croce Rossa di Pordenone abbiamo avviato per raccogliere dei fondi da destinare a delle borse di studio a dei ragazzi ucraini dai 18 ai 26 anni nell'ambito culturale una serata di cultura una serata di solidarietà una serata di vicinanza al popolo ucraino e soprattutto ai loro giovani per questo noi del Teatro Verdi e la Croce Rossa italiana abbiamo lanciato questa campagna di sottoscrizione per creare delle borse di studio per permettere a questi giovani di chiudere il loro percorso formativo soprattutto nel campo della cultura e dello spettacolo credo che per garantire un futuro occorre anzitutto poter garantire un presente noi lo stiamo facendo sui luoghi con delle missioni costanti dove si portano viveri e materiali ma lo facciamo anche con l'attenzione allo sviluppo della collettività è tutto dopo di noi l'appuntamento con a voi la linea grazie per averci seguito buona giornata grazie a tutti